Ancora una volta la showgirl argentina dà scandalo. La bella Belen Rodriguez sa sempre come far parlare di sé il web Una bellezza quella di Belen Rodriguez che non è indifferente a nessuno. Il suo corpo è sicuramente molto sensuale, ma di certo il fatto che sia una donna anche molto simpatica e talentuosa la rende ancora più bella Da brava argentina, Belen ama ballare ed ha anche un notevole talento nella danza Belen mostra le sue forme durante un balletto.Natale, Belen Rodriguez l'ha passato in famiglia Un'aria di festa, quella che si respirava a casa sua, che l'argentina ha voluto condividere con tutti i suoi fan Durante la cena, risate, musica, danza. Anche la sorellina Cecilia Rodriguez, bella almeno quanto lei, si è dimenata in danze molto particolari Le due argentine non hanno fatto il conto, però con i vestitini troppo corti. Chi le ha riprese sicuramente avrà notato che con il movimento sussultori dei loro corpi l'incidente hot era dietro l'angolo Belen mostra il sedere piegandosi a novantesimo punto a di un certo punto della sensualissima danza, proprio sul finire, Cecilia perde leggermente l'equilibrio e Belen per evitare di collassare con lei si piega in avanti scatenando delle immagini, che hanno fatto subito il giro del web Piegandosi, infatti, Belen ha lasciato intravede anche parte del suo di dietro. Così i suoi fan naschietti hanno potuto sognare con lei durante questo magico Natale Ovviamente, Belen ha condiviso immediatamente l'acqua. A lei interessa mostrare quanto si sente bene in famiglia, e quanto si diverte con i suoi cari, in particolare con la sorellina tanto amata Il fidanzato di Cecilia Rodriguez per fortuna, può tirare un sospiro di sollievo, non è della sua ragazza il lato B che ha fatto sognare gli utenti Ecco la clip del ballo hot